Dura solo una giornata la vetta solitaria della Diatec Trentino in Superliga. Tempo di passare per il Palevangelisti, dove una super safety Perugia regala la prima gioia al pubblico amico, superando per 3 a 1 i Trentini, grazie a una prova spaziale di Atanasievic. Ma Lanza e i compagni non hanno demeritato, almeno per i primi tre sete nei quali hanno combattuto punto a punto. Perugia ha chiuso il primo 25 a 22, nel secondo la Diatec ha impattato 20 a 25. Il più emozionante è stato il terzo set, con le due squadre corpo a corpo fino al 23 pari, quando una brutta ricezione porta ad un muro di Buti su Solè, e poi Atanasievic trova le mani del muro per il 27 a 25, che porta i padroni di casa avanti 2 a 1. E qui si chiude il match per quanto riguarda i Trentini. Perugia scappa via subito col solito Atanasievic e con l'ex di lusso, il già capitano trentino Emanuele Birarelli. Il set si chiude sul 25 a 13. Una questione di testa, secondo Mr. Stoicef, ma anche di coperta corta, considerato che la squadra ha dovuto fare a meno ancora di earn-out, mentre Van de Voorde e Antonov faticano a trovare la forma, e a Lanza e Giannelli tocca fare gli straordinari, raschiando il fondo del barile delle energie dopo l'Europeo. E neanche questa settimana si potrà riposare. Giovedì, turno infrasettimanale di campionato. Arriva al Palatrento-Piacenza per la quarta giornata di Superlega. È venuta a mancare l'attenzione, è venuta a mancare l'esperienza, è venuta a mancare tanti fattori che ci devono far insegnare che le partite vanno combattute dal primo all'ultimo set. Abbiamo bisogno di questa vittoria, ovviamente avendo perso la prima in casa e volevamo portare a casa questi punti perché in casa poi questa è una società che ha fatto sempre molto bene e perderne un'altra sarebbe stato un po' troppo brutto.